Risparmio energetico bisogna partire dalle finestre. Il tema del risparmio energetico ad uso abitativo è uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni, tant'è vero che si susseguono i tentativi di incentivare le riqualificazioni energetiche del nostro patrimonio edilizio, delle nostre abitazioni e incentivandole con i vari bonus che vengono erogati, quindi parliamo di eco bonus piuttosto che del super bonus che c'è stato recentemente. Perché è importante diminuire l'impatto energetico e quindi è importante risparmiare da un punto di vista energetico? Il risparmio energetico è così importante. Uno è importante da un punto di vista ambientale perché risparmiare da un punto di vista energetico, vuol dire avere un minore impatto sull'ambiente circostante nel momento in cui noi riscaldiamo le nostre abitazioni, le illuminiamo, insomma ci viviamo. Da un altro è importante perché risparmiare da un punto di vista energetico rappresenta una diminuzione dei costi che bisogna sostenere per mantenere la propria abitazione. Sappiamo che ultimamente i costi dell'elettricità piuttosto che dell'energia primaria sono molto alti, dei combustibili, per cui andare a risparmiare da un punto di vista energetico vuol dire anche risparmiare tanti bei soldi. E si parla tanto di quelli che sono gli interventi da sostenere per poter attuare questo risparmio energetico, quindi si parla tanto di cappotti di isolamento termico, si parla tanto, che è stato ovviamente un tema rilanciato fortissimamente dal Superbonus, si parla di interventi sugli impianti termici rendendoli più moderni e questo è ovviamente vero. Però l'intervento principale che dovrebbe essere realizzato, che può essere realizzato, è sicuramente quello della sostituzione degli infissi, delle finestre, dei serramenti, perché innanzitutto è quello che può essere eseguito, tra virgolette, più velocemente, con un impatto, diciamo, meno forte da un punto di vista, diciamo, della vivibilità dell'appartamento e poi perché effettivamente sostituire delle vecchie finestre, vecchi infissi, con degli infissi, diciamo, più recenti garantisce un risparmio notevole e garantisce dei vantaggi in dubbi. Ma quali finestre scegliere? Ho deciso di proporvi questo video proprio per indicarvi quelle che possono essere delle scelte che dovreste, che potreste fare per risparmiare, per ridurre quindi l'impatto energetico della vostra abitazione con un intervento, praticamente, abbastanza semplice. Ora, mi chiamo Andrea Cipitan, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimane aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale, se vuoi sostenere il mio lavoro online e nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Allora, risparmiare, quindi efficientare il proprio immobile. Come detto, uno degli interventi più immediati e più efficaci è sicuramente la sostituzione di infissi e finestre. Quali scegliere? Chiaramente, nel momento in cui si sostituisce un vecchio infisso con un infisso recente, sia questo in legno, sia in PVC, sia in alluminio con taglio termico, sicuramente se l'infisso che si va a sostituire è un infisso molto vecchio, si ottengono degli indubbi vantaggi, perché attualmente i materiali che vengono utilizzati recentemente hanno dei valori di trasmittanza, quindi di risparmio da un punto di vista energetico, acustico, diciamo di qualità superiore rispetto a quelli che c'erano tanti anni fa. Uno dei materiali sicuramente che garantisce, diciamo, delle rese e dei risultati migliori è il PVC. Perché? Allora, innanzitutto cominciamo col dire che il PVC è un materiale plastico, resistente, flessibile e che è ottenuto da delle risorse naturali, quindi è assolutamente ecologico e completamente riciclabile. Quindi questo è un grosso vantaggio che il PVC ha, indubbiamente, nel momento in cui si decide di utilizzarlo. Chiaramente utilizzare degli infissi in PVC di recente costituzione garantisce un miglioramento da un punto di vista energetico, perché chiaramente l'isolamento termico che garantisce il PVC è ottimale, consentendo quindi di ottenere dei valori di trasmittanza ottimi e quindi mantenere l'ambiente più fresco d'estate e più caldo d'inverno. Quindi, diciamo, i vantaggi da un punto di vista termico sono sicuramente importanti. Inoltre, il PVC ha il grosso vantaggio di essere un materiale che richiede manutenzione bassissima, se non nulla. È un materiale molto resistente a quelli che sono gli agenti atmosferici, garantisce un'ottima impermeabilità e una lunga durata nel tempo, senza eseguire grossi interventi di manutenzione, che, ad esempio, invece potrebbe richiedere il legno, che, diciamo, nel corso del tempo, a causa dell'azione degli agenti atmosferici, richiede degli interventi di manutenzione. Chiaramente, il PVC garantisce anche un miglioramento di quelli che sono gli standard del confort abitativo, oltre che l'isolamento da un punto di vista energetico garantisce delle ottime prestazioni da un punto di vista dell'isolamento acustico, rendendo quindi l'ambiente di casa molto più tranquillo e vivibile. Inoltre, per quanto riguarda quelli che sono gli impatti con quello che è l'ambiente esterno, ricordo che il PVC è un materiale reciclabile e le finestre in PVC, quindi, garantiscono quello che vanno a sostenere quella che è l'economia circolare e il suo completo recupero. Per cui possiamo dire che il grosso vantaggio del PVC è che l'impatto che ha sull'ambiente circostante nel cui vengono utilizzate le finestre in PVC sono veramente molto molto basse, quindi, vantaggi indiscussi del PVC sono la garanzia di isolamento termico, energetico, isolamento acustico e la sua completa reciclabilità nel tempo, oltre che attualmente il PVC è assolutamente personalizzabile anche da un punto di vista estetico, anche se quello poi è un discorso molto soggettivo e personale, consente di ottenere degli infissi e dei serramenti di qualità molto molto alta e da un punto di vista estetico, beh, molto belli. Oggi, ad oggi, ho fatto un video anche qualche giorno fa a proposito dell'eco-bonus, è possibile, fino al 31 dicembre 2024, sostituire infissi e finestre utilizzando l'eco-bonus, che appunto è valido fino al 31 dicembre 2024. Per gli immobili, diciamo, di persone fisiche, ricordo che vale il principio di cassa, quindi pagando eventualmente tutto l'intervento entro il 31 dicembre 2024, si può poi andare anche a sostenere l'intervento nel 2025. Detto questo, ricordo che può essere utilizzato l'eco-bonus, che prevede un incentivo del 50%, ovviamente le spese si portano in detrazione in 10 anni successivi all'intervento, con una detrazione ammissibile di 60.000 euro. L'intervento potrebbe essere eseguito anche utilizzando il bonus casa, bonus ristrutturazioni, anche qui sempre del 50%, con una, diciamo, spesa massima di 96.000 euro. Quindi, fino al 31 dicembre 2024, si possono utilizzare questi due incentivi, l'eco-bonus o il bonus casa, bonus ristrutturazioni, entrambi al 50% da portare in detrazione. Per cui, se volete riqualificare da un punto di vista energetico la vostra abitazione, energetico, ma non solo, anche a migliorare il comfort della vostra unità immobiliare, pensate bene, uno degli interventi più veloci e sicuramente con un impatto maggiore è quello di sostituire infissi e finestre. Se dovete scegliere quali infissi installare, pensate bene, uno dei materiali sicuramente migliori è il PVC. Se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Iscriviti al canale, cliccando sulla campanellina rimane aggiornato sull'uscita dei prossimi video e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!